Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui in questo nuovissimo video di Dawnguard, no scherzo, sto aspettando l'uscita di Dawnguard, ancora non è uscito e per questo ho detto facciamo un attimo questo video perché mi è stato anche richiesto da voi di andare a recuperare un elmo, un elmo in un commento mi è stato scritto quell'elmo che assomiglia al film dei Spartani di 300 e quindi ho detto visto che avevo tempo mi sono ricordato di questo commento ho detto visto che è una guida semplice non c'è nulla da fare nessuna quest da iniziare ho detto perché non realizzarla mentre aspetto appunto l'uscita di Dawnguard perché ancora non è disponibile Allora dovete andare vicino alla baracca di Frochi quella che abbiamo visto ieri e lì semplicissimo dovete percorrere la strada che vi porterà sulla montagna vicino a questa statua e qui ci sta l'elmo imperiale eccolo qui il vostro elmo di Sparta Ora ve lo mostro meglio eccolo qui è bellissimo però ha poca difesa anche se è potenziato dal leggendario è solo a livello estetico ed eccolo qui Poi invece il secondo luogo lo si può prendere anche sotto la statua di Meridia quando iniziate la quest per l'artefatto da Edrico alla Frangialba Quindi potete vedere voi il modo in cui volete prenderlo eccolo qui è proprio appena entrate sta vicino al cadavere sulla sinistra eccolo qui Io questo video vi saluto e veramente spero che si possa scaricare il prima possibile Dawnguard e ci vediamo al prossimo video ciao